Un paese che sta prendendo una china ulteriormente peggiorativa rispetto a quello che abbiamo già visto. Lo dobbiamo sapere senza vestire subito i panni neri della tragedia, ma stiamo oscillando tra la farsa e la tragedia e quindi dobbiamo attrezzarci il più possibile a crescere affinando le nostre idee e trovando i modi più intelligenti per diffonderle. Ripeto, non esiste nessuno all'altezza del compito. Sulla sinistra verrebbe voglia di non parlare più e di fatti non parliamo più. Però attenzione perché bisogna precisare, almeno un paio di cose, poi ne si dovrà precisare, in sede di discussione, di lotte ideologiche, di battaglia quotidiana col vicino d'ufficio o che. Perché, vi dico solo una, qui siamo a un livello di ipocresia infernale. Questi hanno costruito dei meccanismi costituzionali che impediscono la piena occupazione e contestano il governo giallo-verde in punto lavoro. Questi hanno toccato il vertice negativo, se si può dire così, dell'isolamento internazionale del paese con la subordinazione vergognosa durante la guerra di Libia, episodio storico che viene completamente rimosso ma che è decisivo per comprendere le sorti nel nostro paese e osano parlare di Italia che oggi sarebbe isolata. Mentre ieri era piena di alleati preoccupati della sua condizione sociale produttiva. Però il problema più importante per noi è quello degli esaurimenti, se posso dire così, dell'esaurimento della spinta propulsiva fin quando c'è stata, del governo giallo-verde. Cioè il fatto che costituisse un elemento di contraddizione. Lo costituisce ancora. Fino a che punto se lo chiedeva anche Thomas? Lo vedremo. e a seconda di quello che succederà moduleremo. Ma è assolutamente giusto fare una ragionevole previsione legata al fatto che la base sociale della Lega non vuole la rottura oggi. Ora, io sono vecchio comunista e riprendo la vecchia distinzione terzo internalista tra base sociale che è quella che paga, cioè quelli che proprio sono interessati a questo partito qui, la base di massa è largo fascia di consenso che va oltre la base sociale stessa. La base sociale, la base di massa della Lega sicuramente soffre, anche se forse meno di quella, insomma, dei Cinque Stelle della crisi, no? Ma la base sociale, la finanziatrice, in realtà, in questo momento, vorrebbe passare all'incasso. Vorrebbe passare all'incasso, abbiamo detto che lo sblocca il cantiere, guardate che è di grossa importanza, vorrebbe passare all'incasso della flat tax anche in misura ridotta, perché ci sono già eserciti di commercialistica che stanno ridisegnando le società in modo da stare sotto la soglia richiesta. Quindi non crediamo, si deve andare alla soglia e basta, sì, la soglia è bassa ma le società si possono modificare, quindi un introito fiscale pesantissimo in meno e ovviamente cercare di passare all'incasso sulla questione del regionalismo differenziato, oltre al fatto che la Lega cerca di passare all'incasso con qualche nomine europea, come si deve, prima eventualmente di rompere. Perché? Allora, da questo punto di vista io direi che noi possiamo tornare a un'analisi originale nella valutazione di questo governo, che ci faceva dire, il governo bene o male è la prima espressione, dopo tutto il manifestarsi della crisi, è la prima espressione, anche il primo momento in cui si votava democraticamente dopo tanti anni, dello scontento e di una coalizione sociale molto composita, che va dal proletariato marginale del meridione alla piccola media imprese del nord e che è obiettivamente la coalizione sociale che potrebbe e dovrebbe progettare e costruire l'uscita dall'Italia e dall'euro e tutte le conseguenze del piano. Solo che dentro si gioca una partita egemonica tra la parte alta e la parte bassa e indubbiamente la vittoria in questo momento è della parte alta e da questo conseguono tutta una serie di questioni. Io credo che il nostro posizionamento politico, per dirla così, e la nostra funzione è quella di lavorare su questa coalizione sociale, ovviamente non solo, ma con il progetto politico generale, per da una parte ricostituirla e dall'altra ridefinirne e invertirne in qualche senso le egemonie sociali interne. Dobbiamo cercare di passare da un primo populismo, che è quello che abbiamo visto che già Alessandro Risardi ha descritto e ha descritto anche la crisi, a un populismo socialista, che sia populismo in quanto si rende conto che la dicotomia lavoro-capitale non è più gestibile dal punto di vista dell'aggregazione delle soggettività, perché oggi sono pochi i proletari che si rappresentano come classe, che si auto-rappresentano come classe, quindi nell'approccio la dicotomia popolo-elite, la dicotomia basso-alto è molto più sensata, perché ha anche una capacità di raccogliere molto più grande, ma nell'analisi precedente e nella costruzione dei programmi noi non possiamo più fare riferimento soltanto a forme linguistiche che unifichino, ma alla mediazione tra i diversi interessi di classe, alla costruzione di alleanze fondate su un nuovo progetto di Stato, di società e di intervento pubblico, tali da leggere in prospettiva di uno scontro pesantissimo, come comunque sarà quello che ci opporrà quando mai ci riusciremo a leggere anche io. Ecco, quindi dobbiamo noi essere, assieme a tutti quelli che ci saranno, protagonisti di questa trasformazione, costruendo qualcosa di pesante e di serio, perché noi, a differenza di molti sovranisti per il modo di dire, non consideriamo questo passaggio come un passaggio, come dire, di colpo, immediato, in qualche modo puntuale, una crisi dello spread in cui il governo, chiunque sia, decide di che non mi abbia il debito e a lei si parte, è un lungo processo, anche se tu esci, non è finita, non è finita, perché ci sono obblighi, non è che possiamo pensare di dire, ma noi guardate se ne freghiamo, chi si è visto, si è visto, non paghiamo niente a nessuno, a meno di scegliere di cadere in braccio integralmente a chi sta aspettando questa operazione, cioè gli Stati Uniti. Allora, se dobbiamo cadere in braccio agli Stati Uniti, per motivi di opportunità politica, lo scegliamo, non ci mettiamo nelle condizioni di andarsi con forza, questo è un piccolo problema che abbiamo. Quindi, noi se costruiamo, e io penso che ce la facciamo, progressivamente, un progetto politico interessante che possa funzionare, ci situiamo prima di tutto, riprendo anche qui quello che diceva Alessandro, dentro l'elettorato che sta tra la rega e il Movimento 5 Stelle, più Movimento 5 Stelle, probabilmente, non lo so che rega, stiamo in dialettica, ritengo probabilmente molto più con il Movimento 5 Stelle che con la rega, cercando, come dicevo, di trasformare i rapporti esemonici all'interno della coalizione e impedendo due passaggi che sarebbero entrambi nei passaggi. Uno, e quello che vedo peraltro meno probabile, è la persistenza della subordinazione del Movimento 5 Stelle, o comunque di quella base sociale, o comunque di quell'ispirazione alla rega, che è un anno sempre evidente in questa fase, ma dall'altro anche la caduta di tutta questa esperienza verso il Partito Democratico, quindi la sua integrazione della sinistra. Noi dobbiamo, dovremmo, se fossimo un partito con un minimo di forza, di esibibilità politica, uno dei nostri problemi, anche da mediare con attenzione tattica, sarebbe quello di fare tutto per evitare la ricostruzione del bipolarismo, perché il bipolarismo destra-sinistra uccide questo Paese, a meno che non sia, a meno che non sia un bipolarismo, a meno che non sia un bipolarismo, devo dire, liberismo o liberal-protezionismo da una parte e socialismo dall'altra, e allora la discutiamo, no? Ma il bipolarismo è la fine, ed è la cosa a cui sta tendendo in qualche modo una parte della classe dominante. In questo momento, secondo me, indecisi, giocando le due carte riassorbimento della Lega o ricostituzione o di riassorbimento del 25 stelle. Questo è, diciamo, il senso di quello che ho scritto, per cui non ve lo sto a dettagliare. Finisco solo ripetendo alcune cose che ho detto in un primo incontro che abbiamo fatto a Bologna, ripetendo e precisando. Allora, che cosa dobbiamo fare noi immediatamente? Adesso avremo una serie di cose molto importanti, perché poi tutte queste parole, se non si traducono presto in passaggi tecnici anche, tra virgolette, o comunque fattivi operativi che ci portano verso qualcosa di più definitivo, diventano poi anche inutili. Insomma, come diceva, quando mi fa una citazione aurica, il vecchio bled, le conoscenze sono palle di neve, se le tiene in mano troppo spesso, troppo lungo prima di tirarle, poi si sciolgono e qui, come vedete, insomma abbiamo pochissimo tempo. Allora, la prima cosa, la prima cosa è valorizzare quello che siamo. Questo è un gruppo fatto da persone con diversa esperienza politica, una esperienza politica intensa e di ottimo livello intellettuale, non ce ne dobbiamo vergognare. Elite, popolo, c'è molta gente qui viene dal popolo, siamo quasi tutti che vengono dal popolo, ma abbiamo la nostra bella testolina, tutti i minuti. Allora, prima di tutto valorizziamo, ma valorizziamo, ecco qui, le cose che dirò adesso, due o tre cose per finire, sono anche un modo per cercare di rompere concretamente quella bruttuga di sinistra da cui vediamo. Valorizzare le competenze. Da una parte significa non fare occasionalmente i processi di formazione. Noi, soprattutto, perché guardate, noi abbiamo di fronte un compito pesantissimo, io continuo a ripetere, stiamo cercando di invertire una tendenza ottantennale, diciamo così, di un paese alla subordinazione internazionale. Quindi abbiamo bisogno di essere ferratissimi nelle cose, diciamo. Credo che, e su questo i lavori di Thomas sono eccellenti, abbiamo bisogno di una formazione di tipo catechistico, nostra, dei nostri militanti, dei nostri quadri, sulla questione dell'Unione Europea, su tutte le questioni dell'Unione Europea, sia per l'importanza della cosa in sé, sia perché in realtà riassume questa questione tutte le questioni più importanti teoriche che abbiamo di fronte, che cos'è il liberismo, che cos'è lo Stato, che cos'è l'importanza del socialismo, cosa sono i rapporti internazionali. Quindi sicuramente dobbiamo utilizzare quello che già abbiamo. Poi l'altra cosa che dobbiamo fare, sempre in termini di intelligenze, vediamo chiacchierato un po' su come organizzare dopo la mia, non è una collega con quello che abbiamo detto prima, prima, quando ci siamo sentiti, è un contributo al dibattito. Io sarei per evitare, come la peste, i comitati scientifici. I comitati scientifici sono gruppi di intellettuali di altissimo valore e di ottime intenzioni che vengono messi lì dalle direzioni del partito, fabre, come si dice a Napoli, e poi non c'è nessuna interazione tra le due. Questo in genere è quello che succede. Né il politico commissiona all'intellettuale, perché ha paura di romper di scatole una particolare ricerca su un particolare problema, né l'intellettuale esprime fino in fondo i dubbi teorico-politici su alcune scelte del partito, perché poi sembra brutto. Allora, noi dobbiamo fare un'altra cosa. Ci sono, faremo, indicheremo tutti i compagni di alto livello intellettuale che sono con noi, eccetera, però noi abbiamo bisogno di organizzare gruppi di analisi tematica e decidere come su questi punti utilizzare le nostre competenze, sollecitare le competenze altrui che hanno un modo per costruire alleanze e lavorare sui temi che noi riteniamo essere decisivi. Io ne dico tre. Il primo, ritorno sul approfondire quello che Carlo e Alessandro hanno già fatto. Noi non conosciamo la società italiana, pochi la conoscono. Forse nessuno, perché non ci sono più partiti in basso di lavoro. Allora, noi nel momento in cui cerchiamo di costruire, secondo me in maniera sperimentale, quando cercheremo di costruire un'organizzazione penso che avremo diversi modi possibili di farlo, ma proprio nel momento in cui noi cerchiamo di costruire questa organizzazione dobbiamo avere la capacità di porre delle domande concrete ai nostri interlocutori sociali per capire come va questo paese, per capire non solo la composizione di classe così come viene dalle statistiche, ma anche come vive nelle domande che si pone, nelle interazioni quotidiane con gli altri. Abbiamo bisogno di un lavoro di analisi sociale. Difficile da fare. Si possono fare dei focus, si possono fare degli elementi, però i pensieri oggi, pensieri oggi che insomma è un bel salto. L'altra cosa è questa invece è nuova, ma è una mia ossessione, ma guardate perché credo, è anche una delle poche cose giuste che diceva Gisbord nella sua storia d'Italia. Quello che noi dobbiamo cominciare a conoscere oggi, non domani, quando forse stiamo vicino a governo, è come funziona lo Stato italiano, come funziona l'apparato di Stato italiano ai vertici, nei ministeri, nelle regioni, nelle province e nei comuni. E lo dobbiamo fare intrecciando già da adesso rapporti con forze intellettuali, forze amministrative, elementi interni a questi apparati interessati a un lavoro dignitoso, interessati a far bene il proprio lavoro di rappresentanti amministrativi, scusate, passate in termini del proprio lavoro. Ci sono, è un modo sia di capire le cose, come si svolgono adesso, è un modo di costruire alleanze, è un modo di non essere ammazzati appena si arriva lì, perché si viene ammazzati, cioè il Movimento 5 Stelle se l'ha andato a cercare, ma è lì che è finito anche. Da quello che so dall'interno c'è un'incapacità di gestire i livelli medi di presenza amministrativa nei ministeri, che fa impressione, anche solo per costruire alleanze, cominciare a fare iniziative, avvelenare i polsi prima di andarsene, come dire, così si fa, così si dovrebbe fare. Per carità non abbiamo fatto neanche noi come rifondazione comunista quando ci siamo andati, ma avendoci cozzato la faccia, se tu non hai già adesso un'idea di controamministrazione e alcuni alleati interni all'amministrazione, volendo gestire una battaglia come la nostra, che non è semplicemente spostiamo qualche equilibrio, appena arrivi diciamo che quantomeno devi pagare Dazio non di 50 ma di 500 e ti distribui. Ultima cosa che per cui secondo me noi abbiamo bisogno di sviluppare le nostre capacità intellettuali in maniera particolare è quella della politica estera. Noi non ne parliamo, non ne parlano neanche gli altri, ma gli altri non ne parlano a ragione veduta perché hanno rinunciato ad avere nessun'altra politica estera che non sia lì, stiamo dove stiamo, che poi dove stiamo non si sa perché tutto sta cambiando, stiamo lì dove vanno gli altri perché è la vecchia istruzione base del Ministero degli Esteri che dava ai suoi ambasciatori anni fa, ma credo che sia più o meno adesso, comportarsi secondo le ultime direttive del governo italiano in assenza di direttive e comportarsi secondo le direttive degli alleati maggiori. Questo ormai è la verina di base. Ma per noi sarebbe colpevole non analizzare queste dinamiche, sarebbe colpevole non sapere come si muove il rapporto tra Germania e USA, dovendo noi cozzare contro entrambi e vedere se riusciamo a uscire dall'alternativa tra Padello e Braccio, perché Padello e Braccio è il culo purso nello stesso modo. Quindi questi sono i tre punti su cui utilizzare concretamente invece che solo per far passerella come in genere fa la sinistra, le nostre capacità intellettuali e quelle che riusciremo ad aggregare. Altra cosa su cui insisto, forse vi annoierò. Noi dobbiamo proprio in questo senso porre non dà cura alla differenziazione della base sociale e alla grafica del partito. Abbiamo del partito, scusate mi è scappato il tempo, ma quello volevo dire. Abbiamo bisogno di sovra rappresentare proprio quegli strati sociali che noi diciamo essere la forza propulsiva della ripresa del paese perché sono i più disperati. E quindi dobbiamo stare attenti nella costruzione dei lunghi dirigenti, del linguaggio, di tutto. L'ultima cosa e finisco, noi dobbiamo essere sempre attenti a fare sempre e comunque politica. Anche quando, come adesso, siamo poco, siamo niente, non siamo ancora neanche costituiti formalmente, ma noi dobbiamo avere la nostra capacità di dire da subito, di dare da subito orientamenti generali sulla situazione. È l'unico modo per cui ad esempio al prossimo appuntamento, quando cercheremo di fare qualcosa di ancora più grosso, ci siano maggiori aderenti perché c'è più interesse, perché qui c'è una forza politica nascente che non si limita a dire bisogna uscire di qua, bisogna uscire di là, senza fornire spetti, eccetera, ma comincia a orientare le persone molto disorientate su quello che c'è da fare giorno per giorno. Quindi comincia ad essere soggetto politico da subito. Grazie. 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 Grazie.